La preparazione è stata molto proficua, ho un gruppo di ragazzi che lavora, che ha capito di far parte di una squadra che vuole comunque far bene anche nel prossimo campionato, campionato difficile, sarà under 20, quindi scala tutto in avanti di un anno, troveremo magari delle squadre con giocatori nella rosa al limite d'età e sarà bello capire che tipo di campionato verrà fuori. Quest'anno dal mio sassuolo vorrei vedere una veloce crescita mentale, ormai il mio quinto anno qui mi sentite più o meno sempre parlare di questo aspetto. Chi fa parte di una primavera, di una rosa di primavera 1, soprattutto di una rosa di primavera 1 di campione d'Italia, vuol dire che ci può stare in questo campionato. Bisogna capire che più velocemente facciamo una crescita mentale e più velocemente possiamo toglierci delle soddisfazioni. Le mie squadre sono sempre molto aggressive, molto coraggiose e questo è quello che io cerco di insegnare a loro. Ovviamente giocare bene farebbe piacere e noi ci sforziamo di farlo. Poi ci sono delle partite o delle annate dove riesce a farlo velocemente, altre come quella dell'anno scorso dove abbiamo alternato molto. Però insomma alla fine diciamo che questa tanta auspicata crescita mentale c'è stata. Abbiamo cambiato tanto negli 11 che potrebbero scendere in campo, però diversi ragazzi l'anno scorso si sono già allenati con noi, qualcuno ha già assaporato l'esordio nella primavera. Spero che questi ragazzi un pochino di esperienza ce l'abbiano, anche se poi la crescita vera e propria la fa fare la partita. Io per primo devo resettare quello che è stato l'anno scorso. Ogni anno devo cercare sempre di resettare perché a fine anno ti trovi giocatori, chi più chi meno, che è cresciuto, che è migliorato. E quest'anno ancora di più devo fare lo sforzo e cercare di non pensare all'anno scorso che è stato qualcosa di fantastico, di impensabile. E dare tutto me stesso con lo staff a cercare di trasferirgli più conoscenze possibili, cercare di farli migliorare il più possibile. Gli obiettivi di quest'anno più o meno sono sempre gli stessi, cioè innanzitutto raggiungere prima possibile la permanenza nella categoria. Poi cercare di farlo con un bel gioco. Di squadra abbiamo tanti impegni perché oltre alla Coppa Italia, alla Supercoppa, dove ci giocheremo un altro trofeo, alla Youth League, gli impegni sono tanti, sono aumentate anche le squadre nel campionato e quindi ci sono quattro partite in più. Gli obiettivi personali sono quelli di migliorarmi anch'io, di cercare di studiare ancora di più e di provare, come al solito, a portare più giocatori possibili in prima squadra. Secondo me esordio peggiore non poteva capitarci perché comunque Lellas Verona è una squadra che ha dei valori, è ben allenata. Il campo dove giochiamo è un campo sintetico, è un campo fastidioso, ma noi abbiamo la possibilità subito di misurarci contro una squadra che secondo me renderà dura la vita a tutti e farlo all'inizio ci può dare il vantaggio che magari sia noi che loro ancora non siamo totalmente pronti perché non possiamo esserlo in questo momento. Sono curioso di vedere la mia squadra, che tipo di approccio avrà la partita, quanta voglia di fare la partita sporca perché potrebbe essere una partita sporca, avrà e quindi può essere poi insomma un preludio alla partita poi del martedì dove ci giochiamo un trofeo importante per capire insomma anche su chi potrò contare in questo inizio di campionato.